Quattro gol, due pari, tre cartellini rossi al Caprarese succede praticamente di tutto e di certo non ci si annoia. Spoltoresi impeccabili nella prima mezz'ora, portuali che resistono, stringono i denti e ribaltano la gara come dei killer professionisti portando a casa tre punti e consolidando il primato. Si parte subito con lo spoltore che trova in vantaggio con la grandissima punizione di Sparvoli al decimo minuto. Prova a rispondere il Delfino con Petre, la sua conclusione al sedicesimo fuori di un soffio. Ancora spoltore padrone del campo, azione travolgente, Sparvoli, Pietra, Antonio, Sparvoli, Di Camillo, conclusione smorzata in calcio d'angolo. Passano appena due minuti, ancora Sparvoli su punizione, prova a sorprendere, falso che questa volta si rifugia il calcio d'angolo. E nuovamente sfida tra il numero 10 sul grano e il numero 1, ospite direttamente da calcio d'angolo. Ci prova a Sparvoli, respinge con i pugni il portiere del Delfino. Ancora spoltore vicino al gol dopo 60 secondi, Pietra, Antonio, Milizia, crossa al centro ma nessuno è pronto ad insaccare. Al trentunesimo Belli, palla per Milizia, conclusione falso, sventa nuovamente. Pizzicata di Petra al trentasettesimo per salderla, conclusione di prima intenzione, salvatore di nome e di fatto salva il risultato. Nulla può invece su Falco al minuto 39 che approfitta di una indecisione difensiva dei padroni di casa e il risultato che torna in pareggio. L'ex golbo al quarantesimo lascia partire una conclusione micidiale che si stampa sulla traversa e sul filo di rana arriva il 2 a 1. Calcio di punizione di Sabatini che si stampa sul palo, si avventa sulla sfera Falco che fa 2 a 1. Sono proteste dei padroni di casa ma il direttore di cara è irremovibile, si va così al riposo con gli ospiti in vantaggio per 2 a 1. Nella ripresa si parte sempre nel segno del Delfino che dopo 120 secondi fanno 3 a 1 con Sardella che sulla sinistra scappa ai difensori. Si sposta la palla sul destro e deposita in rete. Ancora il Delfino questa volta con Petre, minuto dodicesimo solo davanti a Salvatore, spara addosso al portiere di casa. Giro di lancette e Sparvoli perde la testa, fallo di reazione su Gobbo e il direttore di gara, il signor Pierlodovico Arnese, lo manda anzitempo negli spogliatoi. Parità numerica di stabilità dopo 6 minuti con Falco che si fa munire per la seconda volta e le squadre entrambe in 10 uomini. Ci prova Antonaccio al 21esimo minuto, Falco blocca. Al 22esimo ancora lui, Sardella, il migliore dei suoi, centra nuovamente il legno. Al 26esimo Blasiole si incunia nella difesa di casa e sfiora il palo. Alla mezz'ora Tiberi sugli sviluppi di calcio d'angolo batte a rete ma la sfera si perde sopra la traversa. E al 41esimo arriva il secondo rosso per gli spoltoresi in maggiore, rivolge qualche epiteto poco delicato all'assistente di Arnese e il direttore di gara lo manda negli spogliatoi. La gara si chiude praticamente qui con il Delfino che espugna il Caprarese e continua a sognare. Siamo con il tecnico spoltoresi Alessandro Del Gallo. Mister, una sconfitta 3-1 contro il Delfino, una prima mezz'ora pregevole. Dopo cosa è successo? Che è successo? Che abbiamo preso gol. Questa squadra in questo momento non ha una grandissima reazione quando prende gol. e siamo cascati nelle loro provocazioni, nel loro mettere la partita su queste palle lunghe buttate. Non l'abbiamo saputa leggere. La sconfitta credo che alla fine, in fin dei conti, è meritata. Peccato perché secondo me non c'è tutto da buttare. La prima mezz'ora a me è piaciuta tanto. Se avessimo pure trovato il secondo gol secondo me non stavamo rubando niente. Poi, ripeto, quel primo gol c'è un pochettino demoralizzato. Il secondo, io credo che ci sia anche qualche dubbio sul secondo gol. Però ovviamente la mia squadra deve fare qualcosa in più per vincere la partita. Questi due cartellini rossi sono un segnale di nervosismo, secondo lei? È probabile. È probabile che quando poi non vinci tante partite all'inizio ti può venire questa rabbia. Ma non è questa la strada per andare a cercare quello che vogliamo noi. Perché cascare in questi tetanelli sapendoli vuol dire che qualcosa è stato sbagliato. Oramai il Delfino non è più una sorpresa. Sbanca anche Spoltore e continua a mantenere il ben saldo alla testa della classifica. Prima mezz'ora di sofferenza, vi siete riorganizzati e avete colpito come dei killer professionisti. Eh sì, è stata una partita dai due volti. Un inizio meglio noi nei primissimi minuti. Poi loro hanno preso il sopravvento, ma lo sapevamo che poteva accadere perché lo Spoltore al completo è una squadra che merita alta classifica e sicuramente si rialzerà. La nostra grandezza da partita di oggi è stata dopo l'1-0, secondo me, perché altre squadre avrebbero preso il secondo e il terzo gol. Infatti ho fatto i complimenti ai ragazzi alla fine del primo tempo, a prescindere dal fatto che l'abbiamo ribaltata dentro il primo tempo. Perché se vai 2-0 poi è difficile riprendere lo Spoltore. Sicuramente un po' di fortuna nel fatto di ribaltare la partita del primo tempo, questo sì. Perché poi, come dici tu, ai primi due o tre tiri abbiamo fatto gol, anche se avevamo creato qualche ripartenza anche prima, devo dire la verità. In fin dei conti, come ha messo anche lo stesso Del Gallo, Vittoria Meritata? Alla fine sì, perché il secondo tempo poi abbiamo divorato l'impossibile. Alla fine sì, però, ripeto, la partita è fatta episodi. Ce l'aveva Vittoria Meritata perché abbiamo ribaltato, perché non abbiamo preso il secondo gol, ma se loro fanno il secondo gol stiamo parlando di un altro risultato. La prestazione invece rimane comunque ottima, a prescindere dal risultato. Dove volete arrivare quest'anno? A nessuna parte. Speriamo che si continui a giocare. Questa è la cosa più importante. Prima della partita dicevo che preferivo perdere la partita, ma che si continuasse a giocare. E spero adesso che si continui a giocare, perché per i nostri ragazzi, non solo della prima squadra, ma del settore giovanile, rubo scusami se posso. Io credo che si stia pensando una follia e non ho mezze misure per dirlo, perché quando si decidono delle misure bisogna essere anche consapevoli delle conseguenze che ne portano. E non dobbiamo solo pensare all'aspetto economico, perché ormai si pensa solo all'aspetto economico in tutte le cose. Qui ci sono dei ragazzi di 16 anni, di 15 anni, di 20 anni a cui stiamo togliendo una parte della vita e non gli stiamo dando la possibilità di fare cose diverse preparandoli a questa situazione. Praticamente noi se da domani togliamo il calcio, togliamo gli sport, togliamo tutto, loro andranno non so dove durante la giornata, perché adesso se voi mi dite che stanno a casa io mi metto a ridere, sinceramente. Quindi attenzione a chi prende queste decisioni, io capisco che non sia facile, capisco il problema, capisco tutto, però cerchiamo di usare la testa e cerchiamo di guardare i numeri veramente, e cerchiamo di attenzionare questa generazione, perché noi adulti forse adesso abbiamo goduto già del meglio e non dobbiamo essere egoisti nelle cose che facciamo.